Ciao amici di Unstar da New York, vi porto dove inizia l'highline, il parco pensile di New York, nato da una ferrovia sopraelevata dismessa. Adesso si sale, vi faccio vedere. Siamo nel West Village, e qua inizia l'highline. Siete pronti? Andiamo a vedere. Siamo pronti a salire, l'inizio dell'highline si presenta così, luce a parte, c'è questa frase sul profitto, chissà perché. Prima rampa. Seconda rampa. E terza. Siamo all'inizio dell'highline. Sul lato ovest verso l'Hadson. E qui i servizi e la parte più a sud, dove terminava la ferrovia. Adesso inizia un parco. via, andiamo a scoprirlo. Qui ci sono i binari che rimangono da quella che appunto era la ferrovia in origine su questa struttura. bello. Non è la prima volta che salgo sull'highline, ma non avevo mai fatto caso a questo binario. Probabilmente perché non ero mai arrivato qui alla fine. di freddo. VFun validando. Quança Loop. Quaia! 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 Una cosa davvero bella dell'Highline è che è molto di frequenza e quindi ogni 100-200 metri c'è questa lacina artistica di qualche pittore, scultore, ai più sconosciuto sicuro però bello, arreda molto questo barco sui generis. Qui c'è una sorta di terrazzo che dà sulla strada, un teatro urbano, tutti seduti a guardare una strada in un attraversamento pedonale. Anche questa è New York. . Grazie a tutti. La bandiera è la Sardegna appesa alla finestra di un palazzo che dà sull'highline, attenzione. Abbiamo trovato una bandiera alla finestra, abbiamo cercato un contatto ma non ci siamo riusciti. Abbiamo provato anche a mettere la bandiera appesa al passamano dell'highline ma non si è falsato nessuno. Abbiamo provato a chiamare tutte. Pazienza. Questa casina probabilmente non si vede nel video, è sicuramente di un fan sfegattato di Trump. Questa casina probabilmente non si vede nel video. Adesso l'highline si sposta verso l'Hudson. Sto quasi sull'Hudson e qui la visione invece è un pochino più a est e il complesso ne sta sorgendo. Sto qui il passaggio sopra i treni. Siamo arrivati alla fine di questa passeggiata sopraelevata. C'è una rampa che ci porta giù e adesso rientriamo verso il centro di mountain. Se vi è piaciuto il video mettete un like e condividetelo. Ciao a tutti amici di Ustrad New York. A presto. Grazie.